Ho cominciato una lunga battaglia per portare, trovare i soldi a provare progetti che sono stati rivisti, rivisitati, adeguati da quando c'era Scoditti, poi Rollo con l'assessore Alberto Tedesco, con Nichi Vendola direttamente, che è venuto a Ostuni e quindi questo progetto serviva proprio in questa direzione, a crescere la qualità e la quantità di servizi all'interno dell'ospedale di Ostuni. Poi l'ospedale di Ostuni, e su questo ci sono delibere del Consiglio Comunale, addirittura votate all'unanimità, a ordini del giorno, siccome aveva questa possibilità di ampliamento, siccome aveva parcheggi all'esterno e facilità di accesso, poteva svolgere un ruolo in un contesto di zona nord della nostra provincia. Questo non significava che ci opponessimo alla costruzione di un nuovo grande ospedale. Il problema di fondo è la fase transitoria, per cui la fase transitoria fino all'edificazione del nuovo ospedale va a discapito di una struttura che invece nel piano sanitario regionale ha un ruolo ben individuato e ben specifico, per cui non è giustificato la disattenzione, il depauperamento e l'utilizzazione delle risorse umane del nostro ospedale per coprire una fase transitoria, negativa e molto complicata e problematica per altra struttura ospedaliera. Questo è il dato. Tutto il resto sono veramente sciocchezze. Anche perché poi non c'è bisogno che io mi confronti con nessuno, perché si prenda atto che l'ospedale di Fasano sta a 8 km dall'ospedale attuale di Monopoli o starà più o meno alla stessa distanza dal nuovo ospedale e invece sta a 25 km da quello di Ostuni. Non c'è bisogno che io mi confronti con nessuno, perché si sappia che l'ospedale di Ostuni starà a 35-40 km dal nuovo ospedale in costruzione e alla stessa più o meno distanza, anche se un po' meno, da quella di Brindisi, per cui saranno due strutture, ma quella che nascerà sarà inferiore dal punto di vista quantitativo e qualitativo rispetto a quella di Brindisi, perché quello nuovo avrà circa 300 posti letto, quello di Brindisi siamo oltre i 600 e quindi l'ospedale di Ostuni avrà la sua autonomia e la sua indipendenza in questo contesto intermedio tra i due ospedali e poi sceglierà se andare all'ospedale di Brindisi o a quello di Monopoli per eventuali servizi, reparti che non fossero presenti in quello di Ostuni. Ma il problema qui è che non sono presenti nemmeno quelli che dovrebbero essere presenti, non ci sono strutture organizzate dal punto di vista del personale, non ci sono i reparti che sono già destinati a Ostuni e addirittura sono stati tolti reparti che non dovevano essere tolti. Quindi se questo non è sufficiente per essere preoccupati e per indicare con il dito i responsabili, penso che siamo lontani dalla realtà. La pronta reperibilità notturna degli anestesisti e rianimatori di Ostuni avano a Fasano è una vicenda da avanspettacolo, da striscia alla notizia perché la legge dice che il medico reperibile deve raggiungere entro mezz'ora l'ospedale presso cui viene chiamato. Allora voi immaginate che un medico non ha l'obbligo della residenza, quindi stiamo all'interno del plesso di Ostuni Fasano quando si vuole, salvo poi a dividere, avere una pediatria a Fasano e una pediatria a Ostuni, prima avevamo un'ostetricia, una ginecologia a Fasano e un altro a Ostuni, divise dopo perché dovevamo invece stare a Ostuni. Quindi tutte scelte, come si dice, sciagurate della politica, scelte sciagurate della politica, frutto solo di mediazione e non di scelte scientifiche, strategiche e mediche. Ebbene uno viene chiamato, si alza, si veste, si mette, ho detto, la tuta ignifuga per saltare sopra all'autovettura, parte di corsa, fa Ostuni, Montalbano, speziale, pezzi greco Fasano, deve raggiungere l'ospedale di Fasano all'interno del centro. Una persona normale che deve rispettare i limiti di velocità è quasi impossibile che riesca a raggiungere dalla sua abitazione l'ospedale di Fasano entro mezz'ora. Ma facciamo l'ipotesi che ciò accada e che ci riesca. Arriva a Fasano, il povero paziente che magari ha un problema serio, può capitare anche se non capita mai, deve essere sottoposto a qualche esame diagnostico. Di notte all'ospedale di Fasano non c'è né il reperibile di radiologia, né il reperibile di laboratorio analisi e né il cardiologo. Quindi che cosa fa l'anestesista e il rianimatore? decide, lo fa salire sull'ambulanza e lo portano a Ostuni per fare questi esami. Poi magari devono decidere che c'è bisogno di qualcosa che non ci sta a Ostuni e lo mettono sull'ambulanza e lo devono portare ad andare a trovare un posto dove ricoverarlo, magari in un reparto di terapia d'urgenza ed altro. Nel frattempo sono passate ore, ma stiamo scherzando. È possibile gestire la sanità in questo modo? Non mi pare che sia possibile.